Ma come mai tutti i divani sono ancora dentro? E dove dovrebbero stare? Fuori! Da tanghetti e salotti E' arrivato il fuori tutto! Con sconti fino al 70% Su centinaia di prodotti esposti e a magazzino Disponibili subito in pronta consegna Divani, poltrone, letti, reti e materassi Verissimo! Con il fuori tutto vi aspettano prezzi eccezionali Prezzi da fuori tutto! Alla sede di Cazzago San Martino E nei negozi di Bergamo Centro e Brescia Concesio